Il Doppio Petto È sempre un piacere di vedere Armani, è una legenda dell'industria e di vedere lui ogni anno con qualcosa di molto spettacolare. Un senso fantastico di pensare, ma anche di essere molto classico e molto mascolino. Mi piace. Mi sembra una collezione profondamente personale del signor Armani. Il Doppio Petto è l'indumento che serve a esprimere una forma di potere. Armani invece la prende, la ricodifica, la trasforma in un indumento privo di struttura dove in realtà più che coprire serve a scoprire. È molto bello. Non sono un esperto nel mondo del fashion, ma sicuramente sono un fan e un ammiratore del design e da quello che ho visto ho davvero piaciuto. Ci sono sicuramente alcuni pezzi che sicuramente sarò per la prossima season. Ho trovato proprio la costruzione molto diretta, molto chiara, senza fronzoli. Grazie.